Sono tre i lavoratori in nero scoperti in un supermercato di mussomeli dalle fiamme gialle che hanno intensificato l'azione investigativa che riguarda il settore della distribuzione che soprattutto nei contesti locali ricorre in modo sempre più frequente alle prestazioni di lavoro in nero. Considerato che il numero delle maestranze impiegate in nero è risultato superiore del 20% rispetto ai dipendenti effettivamente in organico, la struttura sarà chiusa per un determinato periodo di tempo. Sono state inoltre scoperte anche due attività commerciali svolte nell'ombra e pertanto completamente sconosciute al fisco. Nel primo caso uno studio fotografico ad Acquaviva Platani, nel secondo caso è stato riscontrato che all'interno di un locale ancora grezzo utilizzato come ricovero di autovetture è ubicato nel quartiere Santa Maria Mussomeli, un giovane parrucchiere esercitava l'attività anch'esso completamente in nero e senza alcuna autorizzazione sanitaria.